Gallio, grande successo per la marcia La Gagliotta che si è snodata per il territorio comunale in alto piano con percorsi dai 3 ai 18 chilometri. Oltre 3.500 appassionati si sono infatti cimentati con i sentieri tra pascoli e paesaggi in mozzafiato, un vero record di partecipazione favorito anche dalla bella giornata e dalla fuga dal caldo della pienura. Secondo il sindaco Munari si tratta della migliore promozione per il territorio con persone motivate e rispettose della natura dei luoghi.